Alleluia! Il diario di Q. Anversa, 3 settembre 1550. Lodeveic de Schalledeca, alias Eloisius Preussnik, alias Eloi. Di mestiere copritetti, imputato della diffusione di libri eretici, di negare sostanza a Dio, di negare il peccato, di sostenere la perfezione dell'uomo e della donna, di praticare l'incesto e il concubinaggio. Arso sul rogo come eretico il 22 ottobre del 1544, insieme a molti membri della sua setta, cosiddetta dei Loisti. Il suo nome appare più volte negli annali delle autorità anversane, associato a quello di David Ioris e di Johann Stenk e di alcuni notabili e ricchi mercanti locali. Già negli anni trenta, diversi suoi seguaci e piancheggiatori furono arrestati, nonostante le omiglie origini, Bruisnik è stato uno dei perni dell'attività anti-ecclesiastica ad Anversa, ma in viso anche ai luterani. Fu processato e condannato a una blanda pena nel febbraio del 1526 su dell'azione di Lutero, che dopo averlo incontrato a Wittenberg, scrisse alle autorità di Anversa per segnalarne la pericolosità. Scampò alla pena grazie a una ritratazione completa e alle deboli sanzioni allora vigenti. Nel 1544 fu sottoposto alla tortura affinché confessasse le sue pratiche e le sue idee blasfeme. Non riconobbe mai nessuno dei suoi complici o seguaci, firmando di proprio pugno la sentenza di morte. Sentenza controfirmata da Nicholas Boycher, domenicano che ha raccolto le sue ultime deposizioni. Il tedesco che sto cercando è un morto che riempie un intero fascicolo nell'archivio dell'inquisizione di Anversa. Il morto oggi è titolare di un bordello di lusso a Venezia. Il tedesco che sto cercando ha attraversato queste terre negli anni della rivolta anabattista. Anversa, 4 settembre 1550 Nicholas Boycher oggi è il braccio destro del padre inquisitore di Anversa. Una quarantina d'anni, alto, magro, allo sguardo di chi ha avuto tra le mani i destini degli uomini, mi ha accolto con cortesia, ha ricordato tutto senza false reticenze, i particolari di una vicenda incredibile. L'eresiarca di Anversa era persona astuta, accolta, capace di tessere un'ampia trama di relazioni tanto con il volgo quanto con i notabili della città. Ancora oggi molti lo considerano un martire e un eroe. Se al porto fai il nome di Eloi, la gente ancora sorride. Eloi il copritetti era un eretico molto particolare, negava il peccato con un'arguzia difficile da demolire, sembrava voler costruire il paradiso in terra. Riusciva a ottenere che ricchi artigiani e mercanti condividessero i loro beni e proprietà con i plebei, un maestro dell'arte del raggiro e del convincimento. I suoi seguaci ad Anversa vivevano assieme nelle proprietà messe a disposizione dai più ricchi. Nel corso degli anni decine e decine di uomini e donne sono passate dalla comunità loista. Eloi accoglieva tutti, non importava da quale disavventura fossero reduci. Un eretico molto particolare in contrasto con le frange più estreme e sanguinarie dell'anabattismo. Ciò nonostante, più d'uno dei fuoriusciti da Münster o dalle bande di Battenberg aveva trovato rifugio presso di lui. Da buon dissimulatori qual era, sarebbe potuto andare avanti a lungo se non avesse pestato i piedi alla gente sbagliata. Ciò che i verbali dovevano tacere. Una complessa truffa ai danni dei banchieri fuga, false lettere di credito, centinaia di migliaia di fiorini. Una cosa incredibile, gli stessi banchieri facevano fatica a spiegarsi come. E il come ancora non è chiaro. Il maltolto non è mai stato recuperato. Eloia aveva dei soci in questa impresa. Uno era un mercante tedesco di nome Hans Grub, scomparso nel nulla. I fuga non potevano permettersi che la faccenda divenisse nota, così hanno bussato alle porte dell'inquisizione. L'ordine di intervenire contro i loisti giunse addirittura da Roma. Non tutti sono stati presi, si suppone che molti siano fuggiti in Inghilterra. Di reduci munsteriti è difficile dire quanti ve ne fossero tra le fila dei loisti. Uno certamente è morto qualche tempo fa in carcere. Era Balthasar Merck. Di altri non si conosce il nome. Non tra quelli arrestati. Lo sconosciuto mercante tedesco socio di Eloi. Un colossale raggiro ai banchieri dell'imperatore. Soldi mai recuperati. Un bordello di luso a Venezia. Stratega della dissimulazione. Reduci di Munster. Il bambino è la statua. Tiziano l'Anabattista. Il diario di Q. Anversa. 7 settembre 1550. L'enigma mi riporta indietro, fuori dalle mura di Munster. Forse è un'allucinazione. Notizie che collego arbitrariamente inseguendo un morto. Chi? Potrei essere io stesso, l'ultima caccia per allontanare la fine imminente. Cosa fa un uomo quando sa di essere morto? Antichi prezzi devono essere pagati a partire dai ricordi che la mente aveva cancellato fuori da quelle mura. Dentro un fosso fangoso, la vita appesa alle mani luride che plasmano la terra, i baffi arroganti del mercenario che mi tiene la lama sul collo. L'odore di erba bagnata, steso come un insetto nella terra di nessuno, tra la città e il resto del mondo. Indietro non si torna, davanti l'ignoto, esercito di prezzolati pronti a sparare su chi barca quelle mura. Fango che scivola tra le dita, i torrioni, i punti più facili da penetrare. La tua vita non vale un cazzo, mi dice. Fai conto di essere già morto. Gli descrivo concitato ogni fortificazione, ogni passaggio, i turni di guardia, quante sentinelle a ogni porta. Ti puoi allungare la vita fino alla tenda del capitano, dice e ride. Mi colpisce e mi trascina via. Il capitano Fondaon mi salvò la vita e mi diede una possibilità, le esatte parole. Se questa notte riesci a risalire sulle mura e tornare qui senza farti ammazzare, mi dimostrerai che posso fidarmi di te. Così si compì il tradimento, progettato e custodito fin dall'arrivo nella città dei folli, gomito a gomito con loro per oltre un anno. Gli ultimi mesi di fame e delirio sono una macchia nera che la mente ha cancellato. Non mi sono mai voltato indietro in tutto questo tempo quindici anni a cercare i volti e le parole di quegli uomini, forse perché ho voluto nascondere a me stesso di avere anch'io vacillato per un istante laggiù in quel fosso, come se la follia avesse contagiato anche me, distogliendo la mente dal compito assegnato. Forse perché quel giorno ho rischiato di fallire miseramente infilzato dai mercenari vescovili, che invece, per qualche caso del destino, scelsero di trascinarmi davanti al loro capitano. Nei giorni successivi dopo il massacro, il vescovo von Baldeck, tornato signore assoluto di Münster, come trono una catasta di cadaveri, andava dicendo che quelli come me, eroi guerrieri della cristianità, non sarebbero mai stati dimenticati in opere ed effigie. Sapeva di mentire il bastardo, è proprio di quelli come me che va smarrita ogni traccia, gli esecutori pronti a essere ributtati nella sentina dove nobili signori li raccolsero per affidare loro l'uride mansioni. Allora pregai il mio signore, l'alfiere nero di Cristo, di portarmi via da quelle terre, da quell'orrore che aveva lacerato le mie carni e incrinato la mia fede. Oggi è là che devo tornare, senza alcuna fede, a incidere le cicatrici.